Ehm, ciao! È molto imbarazzante questa cosa perché è la prima volta che faccio la mia intro con la facecam, ma prima o poi sarebbe arrivato anche questo momento, quindi... Ehi, benvenuti! Ma quest'oggi con la facecam, cioè in realtà solo facecam, perché oggi andremo a rispondere alle vostre domande. Ieri pomeriggio vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande e per l'occasione ne sono arrivato un sacco. Questo è il mio secondo telefono, ho capito, perché sono uno youtuber molto serio, quindi registro col mio telefono lì e questo è il secondo telefono da cui leggo le domande. Vabbè, l'importante è che nella vita ci si... va bene lo stesso. Quindi nulla, dopo due anni possiamo fare una risposta alle domande, perché ogni Natale ne facciamo uno, ovviamente i due Natali passati ne abbiamo sempre fatto uno, e quindi quest'anno nuova domande e risposte, e lo voglio fare serio come fanno tipo tutti gli youtuber dicendo... Giorgio Vanni ci chiede... Giorgio Vanni non mi ha fatto domande però... E dopo aver aperto anche la porta al mio gatto che in questo momento voleva uscire perché mi ha sentito parlare e disturbare il suo povero sonno, e iniziamo. Non mi sono in realtà selezionato le domande, quindi letteralmente scorrerò e prenderò quelle che mi sembrano più interessanti. Se ogni tanto guardo lì, è perché lì vedo la mia faccia, quindi se sto così tipo mi sto guardando, se sto così invece guardo poi. Comunque non perdiamo tempo e iniziamo subito. La Stimo mi chiede, ti senti più libero ora che hai fatto il Face Reveal? Allora in realtà è una situazione strana perché col fatto che ho fatto il Face Reveal però ancora nei video non sono mai apparso in Facecam, è molto strano, anche fare questo video è strano, lo sto registrando tipo oggi è il... che giorno è? Oggi è il 23 dicembre e... è strano perché solo un mese fa neanche ho fatto vedere la faccia e questo è il mio secondo video. Comunque piano piano la faccia diventerà sempre più presente. Ovviamente come ho già detto anche nel Face Reveal su Minecraft la faccia non penso che ci sarà quasi mai, salvo qualche caso eccezionale. Però ti senti più libero o snì, nel senso mentalmente sì, poi ovvio fisicamente ancora non è successo nulla, quindi parlando di fiere e cose del genere, che comunque secondo me sono soltanto cose positive, quindi non penso che possano portare qualcosa di male. Però più libero mentalmente sì, soprattutto perché i commenti del tipo Nico ma quando farai vedere la faccia? Non ci sono più. Cioè nel senso una settimana arriva sempre, tipo io sono... bro, ho fatto il Face Reveal, cioè non... mi sa che se l'è perso, sì. Nicolas Sebastani mi chiede quando ho giocato a Minecraft per la prima volta e la cosa divertente è che la prima volta che ho giocato a Minecraft posso vederlo perché un mio amico me l'aveva inviato tramite mail, non specifico in che modo, e sostanzialmente era il 2011 tipo se non ricordo male, e io tipo oggi il 2022 quindi sono 11 anni che gioco a Minecraft o perlomeno 11 anni fa ho avviato Minecraft per la prima volta. Mi ricordo che era tipo la 1.3, qualcosa del genere, e dopo neanche due mesi ho detto mi proprio compri? E niente, mi hanno comprato Minecraft. È stato molto divertente. Poi un'altra cosa ancora più divertente, qualcuno di voi probabilmente già lo sa, ma il mio primo nome su Minecraft era DeNico3005. DeNico3005, questo perché, perché Nico3005 senza trattino basso non me lo faceva mettere. Era più brutto effettivamente, meno male che l'ho cambiato. Estefogliadelli mi chiede quali sono state le emozioni che hai provato quando ti sei buttato dal ponte? Effettivamente questa cosa non ne ho parlato molto nel video dei face reveal, però è stata una cosa, non lo so, secondo me in un certo senso inspiegabile, perché sul momento in cui sei sopra il ponte e guardi sotto dici, vabbè, sono morto, ciao a tutti. E quella sensazione rimane per i primi tipo due secondi, dove senti proprio il vuoto, ti senti libero, ti lasci andare. Poi appena senti il primo rimbalzo, ti senti proprio di volare, ti senti leggero. È bello, cioè se ci pensi, stai per morire probabilmente, però in realtà dici, ah ma c'è la corda e ti senti libero, inizi a volare, a svolazzare nell'aria, a fluttuare. No, è stato bello, davvero. È una sensazione di libertà e voi direte, in che senso ti butti nel vuoto e senti la sensazione? È una sensazione di libertà. Vi giuro che è così, sembra strano, eh, però vi giuro che è così e, secondo me, ovvio, se siete un po' paurosi, ovunque avete paura dell'altezza, è una cosa che non vi consiglio, però è una cosa che, se volete quel brivido, quel brio strano, quell'esperienza, secondo me è qualcosa da provare. I don't speak italia mi chiede, chi era il tuo youtuber preferito o chi ti piaceva di più? Allora, io in realtà, diciamo che seguo YouTube da tantissimo tempo, perché mi ricordo che ero in quarta elementare e, forse anche in terza, non mi ricordo, e vidi per la prima volta un video di Favij. Favij diciamo che è il primo youtuber che ho visto e ho straseguito ai periodi di Happy Wheels, dei giochi horror, o comunque di tutti quei video che ormai sono storici, possiamo dire. Poi da Favij mi sono spostato lentamente, prima sui mates in generale, e poi più focalizzato su Minecraft, col gruppo, per esempio, di Marci, quando giocava nel suo primissimo server, l'Hellcraft, che non so quanti di voi lo conoscano, sinceramente. E c'è sta giacca che, vi giuro, mi son vestito così perché dopo devo uscire, quindi ho detto, dato che mi son fatto, non è che facciamo anche il video. Solo che sta giacca va su, questo è più su di questo, cioè, ma porca miseria. Al momento, in realtà, i youtuber che seguo, seguo proprio ora che guardo tutti i video, sono pochi, devo dire la verità, perché, non lo so, perché semplicemente ho perso un pochettino l'abitudine, però quelli che guardo principalmente sono quelli che viaggiano, anche perché viaggiare è, tipo, una delle mie passioni principali. Cioè, tipo, se qualcuno viene da me, ho detto c'è tipo 40.000 volte in questo video, scusate. Comunque, se una persona viene da me e mi dice, domani partiamo e andiamo a Parigi, io gli dico sì, ok? Cioè, è quello, mi piace con l'esperienza di prendere e viaggiare. Questa è anche una domanda che avevo letto, scusa, non ho letto il nome, non mi ricordo chi mi ha fatto questa domanda, però comunque sì, viaggiare è una passione per me e proponetemi dei viaggi. Ci vengo con voi, ve lo giuro. Dai, ci divertiamo. No? Non volete venire con me, ok. Samatucci08 mi chiede, da dove è nato il tuo buon Natale a tutti e felice anno nuovo? Ma in realtà, non lo so, la prima volta l'ho detto per scherzo, però io già quando sono tipo su TeamSpeak con i miei amici che parlo, o comunque che, non lo so, semplicemente finiamo di registrare cose del genere, io così gli saluto dicendo me ne vado buon Natale. Cioè così, proprio buonasera non mi piace, arrivederci non mi piace, ciao non mi piace. E quindi siccome nessuno dice buon Natale a tutti e felice anno nuovo, secondo me è assoluto carino. Itzasi mi chiede, come ti sei sentito quando tutti guardavamo in premiere il video in cui facevi vedere la faccia? Allora, in realtà, io ero tipo esattamente su questa sedia, il mio monitor adesso è qui, non riesco a farvelo vedere, era esattamente così. Ed ero un po'... Cioè, io ero un imbarazzo, non lo so perché, è strana come cosa. Poi, soprattutto nel momento del lancio in cui tipo ho detto, no vabbè, adesso basta, adesso in questo momento tutti vedranno la mia faccia per la prima volta, io ora mi sotterro e niente. In realtà è stato bello perché, comunque, avete reagito in modo super positivo, molti hanno apprezzato anche il gesto che c'era, il significato diciamo che c'era dietro il video e sono molto contento perché volevo fare un qualcosa che lasciasse un segno, un qualcosa comunque di significativo e così è stato, quindi sono molto contento. Siamo la mia vita mi chiede, canzone che ti rappresenta di più? E non lo so perché l'ho scelta, però proprio così leggendola, mi è venuta subito in mente la canzone quella di Avc, la canzone che si chiama The Nights, che non è la mia preferita, mi piace un sacco per carità, però non è la mia preferita, ma mi piace un sacco il ritornello e il mood che dice mio padre mi disse che un giorno lascerai questa vita indietro e quindi vivi la vita e vivi i momenti, quindi mi piace questo concetto di vivere la vita al massimo, al meglio e di cogliere ogni occasione che ti viene posta per viaggiare, sperimentare in tutti i campi, per esempio non lo so, anche di cibo, di non lo so, di qualsiasi ambito, di amicizie, di lavoro, qualsiasi cosa, cogliere perché è un'occasione e la vita non è infinita, quindi va vissuta al meglio. Secondo me è una cosa molto bella e che ti sprona sempre più nella vita a trovare quella voglia che magari dici, non lo so, sarebbe bello, però non ho tanta voglia, però le occasioni non sempre ricapitano all'infinito e quindi mi piace particolarmente questa parte del testo, poi non so, in realtà non è la mia preferita, però... pollicione in su, pollicione in su, pollicione in su. Alfa Youtube mi chiede se sarò a RomX 2023, in realtà al momento non lo so, però la mia intenzione è quella di andarci, quindi siccome i miei amici ci vanno sempre tutti gli anni, magari quest'anno potrebbe essere la prima filiera in cui potrei venire, però in realtà non lo so, perché ancora non so niente, appena saprò qualcosa però ve lo farò sapere. Ara mi dice, è bello il cammino di Netflix, perché nella storia che ho fatto, cioè si vedeva il cammino di Netflix, è una cosa divertente e non so come farvelo vedere, faccio una foto, Ahah, c'è il cammino! E prima o poi arriverà anche un tour della postazione, mi ha messo a fuoco, mamma mia, c'è anche la messa a fuoco in questo telefono, incredibile! Comunque prima o poi arriverà anche un tour della postazione, quando avrò voglia di sistemare dei cavi, perché ci sono dei cavi fuori posto che prima o poi sistemerò, ok? Comunque è pulita, la pulisco, la pulisco sempre, ma quei cavi non ho voglia di sistemarli. Cavatappix mi chiede perché i pinguini fanno la cacca di colore rosa e io ora non so di che colore facciano la cacca ai pinguini, ma mi andrò a documentare. Pinguini, lo faccio in diretta, pinguini cacca rosa? Davvero i pinguini fanno la cacca rosa? Ok, penso di aver scoperto una cosa... Wow, perché la fanno rosa non lo so, ma wow. Un giorno voglio farla anche io rosa. No dai, scherzavo. Archiluca mi chiede se adotterei un procione, ma la risposta è ovvia. Certo, cioè scusa, hai visto che su Stambulcast la mia schiena è un procione? Eh certo, poi guarda, lo metterei tipo qui. Non lo posso far vedere. Sulla mia scrivania voglio un procione. Se mi avete un procione da regalarmi, forse è illegale. Non regalatemelo, va bene così. Sioreuzamaki mi chiede perché il mio canale si chiama nico virgola e non nico slash. In realtà, vabbè, per chi non lo sapesse ho un secondo canale, ovvero nico virgola. Andatevi a iscrivervi, mi raccomando, perché escono due video a settimana su dei giochi che non sono Minecraft bellissimi, secondo me. E in realtà, boh, nico virgola era il più carino di nico slash. No? Poi vabbè, il prossimo magari è nico punte virgola, nico due punti e quanti ce ne sono ancora. Non vi preoccupate che la lista è ancora lunga. E ne approfitto anche per rispondere alla domanda che ho visto in questo momento varie volte da varie persone. Se farò mai un canale vlog, la risposta è per il momento no. Perché comunque i vlog saranno qualcosa di occasionale e quindi che ci saranno ogni tanto. E penso di metterli in realtà su questo canale, su unico punto. Perché, boh, sì. Fatemi magari sapere anche nei commenti cosa ne pensate. Ma secondo me, su unico punto, al momento i vlog sono 10 su 10. 10 su 10. Guarda, guarda che mimica. Mamma mia. Vado avanti. All'inervo mi ha chiesto perché non ho fatto un post con la faccia su Instagram. La cosa divertente è che io avevo un post da pubblicare il giorno del Face Reveal di una foto fatta in quel giorno con il Face Reveal. Ed era una foto, c'era tipo una con Marci e una con Loco. Solo che quella con Loco l'ho venuto male e quindi non volevo pubblicarla. E quella con Marci è ancora sul mio desktop che ogni tanto la guardo e dico, non so, la pubblico. Non lo so, mi faccio molte pare, sinceramente. So che è sbagliato e so che non so da fare, però mi faccio molte pare. E non so se mai la vedrete, chissà. È proprio lì. La sto indicando. No, è... No, dov'è il mio dito? Lì. È tipo lì sul desktop. Ma, al momento, rimane sul desktop. Algesia7 mi chiede, come è stato prendere la scelta di fermarti un anno con gli studi per concentrarti su YouTube? Allora, io la vedo in questo modo. Nel senso che quello che mi sta succedendo per di YouTube e di tutta questa cosa qua è un treno, ok? È una cosa che non si sa. È un'occasione. Proprio quello di cui parlavo prima riguardo alla canzone preferita. È un'occasione che non sai quando ti può ricapitare. Perché mi ritengo sicuramente una persona strafortunata di poter fare ciò che faccio. E ne sono straconsapevole. E l'università, invece, è un qualcosa che, nel senso, ti puoi iscrivere anche quando hai 30 anni, 40 anni, 50 anni. Oppure domani, volendo, per il prossimo anno. È un qualcosa che, comunque, bene o male, ogni anno ti puoi riscrivere. Ogni anno la puoi rifare. Non è un treno che passa una volta soltanto. Quindi, diciamo che per il momento, sono ancora fermamente convinto che quello che ho fatto, ovvero, ho finito la scuola superior l'anno scorso. Mi sono diplomato di ciò scientifico. E quest'anno mi sto dedicando completamente a YouTube, per chi non lo sapesse. E per il momento, ritengo di aver fatto la cosa giusta. Anche perché, riprendendo anche qualche altra domanda che mi avete fatto in tanti, se mi ritengo soddisfatto di quello che sto facendo. Al momento sì, non sono soddisfatto al 100%, perché so che posso fare meglio, ma si può sempre migliorare in ogni cosa. Quindi, essere soddisfatti al 100% sarà complicato, a prescindere per me, ma per tutti, penso. Però, comunque, mi ritengo molto soddisfatto di quello che sta succedendo. E 2023, mancano, non so quando uscirà questo video, forse il 28, mancano pochi giorni. 2023 sarà l'anno. Sarà quell'anno. Non so cosa succederà, ma sarà un grande anno. Sì. Molti di voi mi chiedono se sono stato al Games Week. E una cosa divertente è che io sono stato al Games Week e dopo il mio face reveal mi sono arrivate delle foto di persone che avevano fatto delle foto a me e ai miei amici che giravamo per la fiera. E non so, cioè, è strano perché mi viene da dire o chi era al Games Week, faceva le foto a tutte le persone per poi dire, ah, sei Nico? Oppure mi avevate presamente riconosciuto al Games Week. E al Games Week ancora io non avevo fatto vedere la mia faccia, anche se in realtà, boh, era abbastanza facile capire chi io fossi. Perché, tipo, mi infiltravo dentro lo stand, andavo a rubare l'acqua e il cibo. Non diciamolo in giro, però. Mela0421 mi chiede se mi tingirò di nuovo i capelli. Perché per chi non lo sapesse, anche perché non mi avete effettivamente mai visto, però, tipo, c'è stato un anno in cui ho avuto i capelli rossi. Non proprio rosso-roso, cioè, non proprio, non voglio fare pubblicità, però, non rosso-roso tipo questo, ma un rosso ramato. Mi piacevano un sacco, poi mi sono andati via e non ho più fatto la tinta. Però mi piacerebbe, mi piacerebbe sia farli completamente neri, perché adesso sono tipo un castano scuro, qualcosa del genere, non lo so, c'è anche, boh, sì, più o meno, sì. Mi piacerebbe farli o neri, oppure di nuovo rossi, che mi piacevano un sacco, però, non lo so. Oh, di nuovo è storto, ma guarda te. Oh, vedi te sta giacchetta. C'è stato un cambio di inquadratura, penso, perché mi si era tipo surriscaldato tutto e si era spenta la registrazione. Comunque, dicevo, l'ultima di domande, una che mi è piaciuta è quella in cui mi avete chiesto, in quale posto vorresti andare, Tapizza, me l'ha chiesto, ciao Tapizza. In realtà, in tutti i posti in cui non sono già andato. Cioè, il mio obiettivo è quello di lentamente viaggiare tutto il mondo. Ovviamente, sin da quando sono piccolo, volevo andare in America e New York e lì prima o poi ci andrò. Oppure sarebbe bello anche andare tipo al Quacella, che è tipo il festival musicale che c'è ad aprile, sempre in America. Ma anche in Europa, cos'è che mi manca da vedere? Manca, per esempio, Amsterdam, con i Paesi Bassi, oppure anche la Cina e il Giappone, che ovviamente non sono in Europa. Però, mi piacerebbe un sacco andarci, quindi, ritornando prima, se qualcuno vuole propormi un viaggio, io ci vedo. Sto scherzando, ovviamente, però voglio andarci davvero, effettivamente. E l'ultima domanda la voglio cercare, perché qui, al momento, non vi nego che è pieno di domande sulla Nikolakis e io vi posso continuare a dire che non esiste. Ok? E come ultima domanda, a tema natalizio, Bandiera Edoardo mi chiede, Pandoro o panettone? Beh, fino all'anno scorso Pandoro, ma quest'anno ho provato un panettone che non avete idea di quanto è buono. Quindi, la mia risposta è quel panettone, non tutti, solo quello. E con questa, direi che possiamo concludere qui il video. Spero di aver risposto a un pochettino delle vostre curiosità e nulla. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e Natale prossimo con un altro domande e risposte. E, tra non troppo, con un vlog magari. Vediamo. Ho delle idee, vediamo se riusciamo a farle. Nulla. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Faccio così, come l'altra volta. Dai che è carino. Ciao!